La prima domanda che mi fanno le persone quando dico che sono una pittrice full time è ma come ti guadagni da vivere? La seconda domanda poi, dopo che glielo ho spiegato, è ma come fai a fare tutto da sola? Per questo ho pensato di mostrarvelo in un video facendovi vedere quali sono tutte le cose che compio quasi ogni settimana per portare avanti la mia attività di pittrice, content creator e insegnante online. Benvenuti in una settimana di lavoro nella vita di Vale Sutela. Solitamente il lunedì inizia con un po' di pianificazione quindi qui ho il mio taccuino dove segnerò tutte le cose che devo fare questa settimana e lo coordinerò anche con una app che uso che si chiama Todoist in cui metto sostanzialmente tutte le mie Todoist per tutti i giorni della settimana e in cui ho anche gli obiettivi di ogni settimana per ogni mese. L'organizzazione, capirete, è fondamentale quando si lavora in proprio e quindi solitamente è una cosa che faccio o il lunedì o il venerdì per la settimana dopo. In questa fase è fondamentale per me anche guardare quali sono i video in arrivo per tutte le settimane, quali ho già fatto, quali devo girare e in questo modo riesco a organizzarmi fin dall'inizio della settimana per riuscire a finire i video per tempo. Cerco di raggruppare tutte le cose che devo fare per modalità o argomento così che la mia mente non debba cambiare troppe volte modalità nell'arco di una stessa giornata. Quindi ad esempio domani sarà tutta la giornata legata alle cose fiscali e poi cerco di ritagliarmi due giornate piene, in questo caso ho scelto mercoledì e venerdì solo per dipingere. Poi quando ho finito di pianificare la settimana guardo le mail e quindi vedo chi mi ha scritto durante il weekend, mail arretrate, mail di lavoro e questo processo può chiedere tra la mezz'ora e un'ora e mezza dipende da quante mail arretrate ho. Volevo farvi vedere questa mail di una studentessa del mio corso di disegno base che mi ha mandato il suo prima e dopo il corso. Allora questo è il suo disegno prima del corso e vedete che ha utilizzato una carta sbagliata, troppo ruvida il segno era molto perso, incerto, il caroscuro molto istintivo guardate il dopo che è completamente un'altra cosa innanzitutto la carta è più giusta, le sfumature sono più graduali il segno è più deciso, le proporzioni sono rispettate meglio e quindi adesso le mando una piccola mail di risposta ma sono sempre molto orgogliosa quando vedo questi confronti prima e dopo. Se anche a voi può interessare migliorare nel disegno come ha fatto Barbara vi lascio qui sotto in descrizione il link con tutti i miei corsi di disegno e pittura dove troverete anche il corso di disegno base che è quello che ha seguito Barbara. Alle 11 circa faccio una piccola merenda e colgo anche l'occasione per farmi 15 quando riesco e sono molto rilassata anche 30 minuti di pausa per leggere, fare uno snack o sistemare qualcosina in giro per la casa. Oggi mi faccio delle fragoline con un po' di yogurt in soia. E' sempre un buon momento per registrare un reel al volo. Ad esempio stamattina dovevo testare due tipi di carta per decidere quale farmi mandare dal cliente per un video in collaborazione e ho colto l'occasione per girare un reel sui tipi di carta da utilizzare per il carboncino. E ora lo devo montare. Nella mia to-do list di oggi mi rimangono ancora altre cose di cui rispondere a una mail di lavoro, girare il video che pensavo di rigirare stamattina ma alla fine tra reel, test e mail è già l'una e poi mandare il video a Luca. Ciao Luca, è il mio video editor. Quindi che dire, farò tutto nel pomeriggio e adesso mi dedico la mia. Pautopranzo! Inoltre devo ammettere che ho temporeggiato perché avevo la batteria di riserva della macchina fotografica scarica e questa è mezza scarica quindi comunque mi serviva un po' di tempo prima di registrare il video di oggi pomeriggio. Carino il mio nuovo vestitino! Preso in vacanza. Ok, la pausa pranzo è finita, adesso mi sono cambiata perché devo girare un nuovo video. Quasi sempre mi cambio prima di girare un video sia per variare un po' l'abbigliamento nei vari video, così non sembra che mi metto sempre gli stessi vestiti, sia per contrastare con lo sfondo o con gli altri elementi. In questo caso mi piaceva tantissimo la tonalità di questo verde e ho pensato che fosse adatta all'argomento di cui parlerò nel video. Ok, sono le 5, ho finito di registrare, adesso sto esportando tutti i video, poi devo esportare i proxy e caricarli per mandarle il mio video editor. Dopodiché la giornata lavorativa è finita e posso andare a fare la spesa. Ci metto un po' a esportare i video, mi sa che nel frattempo inizio a prepararmi. Bene, sono le 5 e un quarto, la giornata lavorativa è finita, ora scappo a fare la spesa e ho poi un po' di ginnastica prima di cena, ma noi ci rivediamo domani. Ciao! Oggi è martedì e come già vi introducevo ieri, l'inizio della giornata di oggi prevede un pochino di cose a computer. Solo le 10-20, quindi iniziamo. Allora, per prima cosa stamattina vado a caricare i video che ho girato ieri sul drive, dove li può scaricare poi Luca per montarli. Ok, ha richiesto veramente pochissimo tempo, adesso non resta che aspettare 6 ore. Nel frattempo guardo le mail per vedere se qualcuno mi ha scritto. Allora, stamattina ho ricevuto una mail da una mia studentessa della Scuola Romana dei Fumetti, perché quest'anno ho tenuto un corso di pittura a olio per loro e mi ha mandato il suo progetto finale che riguardava l'utilizzo delle palette. Ispirandoci un po' all'utilizzo delle palette fatte da James Gurney e devo dire che siccome è un ottimo esercizio che mi rende molto orgogliosa, quindi adesso le scrivo una piccola risposta. Poi ho ricevuto una mail di assistenza, quindi risponderò con il dettato vocale. È arrivata la mail dal commercialista, devo pagare i contributi e l'iva trimestrale. Aiuto! Togliamoci questa cosa prima possibile e smettiamo di pensarci. Come commercialista ho scelto Partitaiva24, che è un servizio di commercialisti completamente online e italiano che mi permette di gestire tutta la mia attività dalla A alla Z. La dashboard è comodissima da utilizzare, trovo tutto quello che mi serve per gestire la mia attività a portata di mano. Inoltre, quello che adoro di più di Partitaiva24 è il servizio clienti, perché ogni volta che ho un dubbio posso mandare una mail o chiamare e ricevo una risposta tendenzialmente in giornata, se non il giorno dopo. Gestire un'attività è molto complesso e le domande che ho sono sempre davvero tante, ma le risposte che ricevo dai consulenti di Partitaiva24 sono sempre molto cordiali, chiare ed esplicative. Passando al pratico, quello che devo fare oggi è pagare i contributi, pagare l'iva trimestrale e stilare il registro dei corrispettivi. Ora sono le 11-20, vediamo quanto tempo ci metto. Ok, ho pagato l'iva trimestrale, adesso pagherò i contributi IMS. E una volta fatto, segno come pagati i due F24 sulla mia dashboard Partitaiva24. Qui ho segnato gli altri oneri fiscali che devo fare ogni mese intorno al 10 e sicuramente una delle cose più importanti da fare entro il 15 del mese è il registro dei corrispettivi. Chi lavora online attraverso un e-commerce tendenzialmente fa il registro dei corrispettivi al posto delle fatture perché è un modo molto più semplice e veloce di dichiarare le proprie vendite. Ok, ci ho messo veramente tanto, sono le 12.47 e adesso l'ultima cosa che mi manca da fare per chiudere questa mattinata è fare le autofatture. In sostanza, tutti quei servizi che acquisto dall'estero, ad esempio banalmente le pubblicità di Instagram e Facebook, non vengono dichiarati in Italia. Quindi devo fare delle autofatture io in cui dichiaro l'IVA e il pagamento di questo servizio. Iniziamo! Ho sbagliato a comunicare all'OSDI le autofatture, ho mandato una autofattura come se fosse una fattura e poi ho emesso una nota di credito con valore negativo, quindi cercando di rimediare ho reso tutto molto peggio. Non ho idea di come sistemare, l'unico che mi può salvare è Francesco di Partitaiva24. Ed eccomi mentre gli mando la terza mail di oggi! Ciao Francesco! Speriamo che mi risponda al più presto e soprattutto che non pensi che sono una testa bacata. Promemoria per me stessa del futuro? Quando faccio le cose fiscali? Fare delle pause e non fare tutto insieme per tre ore di fila, perché serve un'alta concentrazione e se si sbaglia sono guai e non sempre è facile rimediare. Per fortuna Francesco ha una grande pazienza. E ora, all'alba della 1.20, dedichiamoci a una bella pausa pranzo. Pronto, ciao Francesco! Ciao Valeria! Ho fatto un pasticcio! Ah dai, non ti preoccupare, come posso aiutarti? Eh, ho sbagliato in mettere una nota di credito e anche una fattura. Ok, nessun problema, dai, ora le gestiamo. Dai! Neanche dopo due ore Francesco mi ha chiamato e mi ha guidato passo passo alla risoluzione del problema che per fortuna non era poi così tanto grave. L'assistenza dei commercialisti partita IVA24 è molto presente, chiara e completa. Mi aiutano a gestire anche cose molto difficili senza farmi sentire incompetente. E finalmente abbiamo risolto! Wow, ho appena ricevuto un messaggio da uno studente dei miei corsi in cui mi fa vedere il risultato prima e dopo il mio corso di disegno base. Quindi devo cogliere l'occasione per condividere questo screenshot e fare una storia per il mio profilo Instagram. A volte uso il treppiede, altre volte faccio molto banalmente così. E poi chiaramente la storia va modificata, messa i sottotitoli, pubblicata, insomma tante piccole cosettine che durante la giornata si prendono veramente un sacco di tempo. Poi quando ho finito di fare tutto quello che c'è nella mia to-do list non mi resta che mettermi al lavoro con la mia arte. E il compito che mi sono riservata per oggi è quello di mantenimento quindi riverniciare i bordi, spruzzare la vernice finale sui dipinti e insomma archiviarli per fare spazio a nuove opere. Se vi interessa questo processo non preoccupatevi perché sto preparando un video in cui vi spiego tutto sul mantenimento dei miei dipinti perlomeno per quanto riguarda quello che faccio io. Ora è tutto pronto per la mia giornata pittura di domani. Oggi è la mia giornata pittura e stamattina l'ho incominciata un po' con un pensiero fisso ovvero se io volessi montare un disegno su carta, su un pannello innanzitutto come fare perché non l'ho mai fatto i materiali che mi servono più o meno ce li ho chiari ma una domanda che ho è se mi serve per forza il pannello con dietro la cornice come questo oppure se va bene anche un classico pannello che mi faccio tagliare al brico o al falegname. Visto che non so la risposta e non riesco a trovarla su internet pensavo di chiederla alla mia community. Ciao a tutti! e poi faccio il box domande speriamo che qualcuno mi risponda poi vi faccio sapere Bene, ora direi che abbiamo temporeggiato abbastanza sono le 10 e iniziamo a dipingere Dopo una notte di riposo i dipinti che ho verniciato ieri sono asciutti e quindi posso imballarli e metterli via per fare un nuovo posto sulle mie pareti per i miei prossimi dipinti e ora mi metto al lavoro sul mio nuovo dipinto a cui tengo molto che si chiama Dead Ends ed è un dipinto che parla del cambiamento Ok, è l'una e mezza ho sforato un pochino anche perché stamattina devo dire che ho un po' procrastinato è una cosa che mi succede spesso prima di iniziare a dipingere ma forse ve ne parlerò meglio in un video completo perché per me la parte più difficile della pittura è l'inizio e la fine del dipinto ora però ho bisogno di nutrirmi perché se no non riesco a continuare oggi pomeriggio Ok, pausa pranzo finita torniamo al lavoro Amo dipingere ma certe volte il tempo che ho a disposizione non corrisponde all'ispirazione quindi comunque devo forzarmi a dipingere lo stesso anche quelle volte in cui non sono per niente ispirata ed è quello che è successo un po' questa settimana voi come gestite il tempismo tra ispirazione e ritagli di tempo disponibili? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Bene, alle 8 meno 5 mi fermo qui per oggi ho tirato un po' per le lunghe anche perché oggi è stata una giornata che è andata un po' a rilento c'era un clima molto uggioso e mi sono davvero dovuta sforzare di concentrarmi e mettermi al lavoro nonostante in queste giornate da libera professionista avere soltanto voglia di stare sul divano a guardare The Office e mangiare cereali ma mi sono impegnata per fare qualcosa penso che andrò un po' avanti domani anche perché ho tanto colore preparato anche se per domani avevo già altre cose programmate comunque ci penso domani mattina, adesso mi tolgo il camice e vi saluto ci vediamo domani Stamattina guardando le mail ho visto che è già pronto il video che mi ha montato Luca, il mio video editor quello che faccio adesso è andare a scaricarlo, vedere se va tutto bene, esportarlo e caricarlo sul canale Stamattina fa fatica a svegliarsi pure lui 3, 2, 1, via! Io i video li guardo tutti a questa velocità Guardate chi mi è venuto a trovare mentre lavoro La Lea! Amore! Per chi non lo sapesse la Lea è la gattina dei miei vicini che viene sempre a trovarmi eh si arrampica sul balcone, è vero? La fisserei tutto il giorno Ma non posso! Ora finisco di sistemare il video che mi ha montato Luca che è già perfetto eh e poi lo carico sul canale Per me la gestione del tempo è fondamentale e avere dei commercialisti che sono sempre reperibili e che possono guidarmi a fare anche pratiche molto complesse direttamente da casa senza spostamenti inutili è qualcosa di veramente fantastico perché mi permette di salvare tanto tempo prezioso Se stai pensando anche tu di aprire la tua attività e vuoi trovare un commercialista che sia capace di spiegarti tutto in modo semplice, paziente e professionale ti consiglio vivamente di prenotare una consulenza gratuita con i consulenti commercialisti di Partitaiva24 Puoi prenotarla al link che ti lascio qui sotto nella descrizione del video Loro sapranno indicarti al meglio le possibilità che ti offre il mondo del lavoro in proprio e sapranno aiutarti concretamente non solo ad avviare la tua attività ma anche a mantenerla al meglio Sia che tu voglia essere un libero professionista, un artigiano No, vai al sole Oh sole mio Arriba, hai visto? Che viene davvero se lo chiami Sia che tu voglia lavorare come libero professionista, artigiano o commerciante oppure impresa nel regime ordinario Ok, ho finito di apportare le mie poche modifiche in meno di un'ora Il video è pronto, un miracolo perché di solito montare i video mi richiedeva dalle 5 alle 8 anche 10 ore in base alla complessità Ora però non mi resta che fare la miniatura del video Quindi devo estrapolare uno screenshot da questi video, vediamo se trovo qualcosa di carino Ecco, solitamente quando giro il video faccio anche delle pose per la miniatura Questa volta non l'ho fatta quindi devo capire come arrangiarmi Praticamente sto cercando un frame in cui ho una faccia presentabile e abbastanza entusiasta Per creare una miniatura accattivante Un po' una caccia all'oro E cambio espressione e mi fa trappare Persa completamente Nel caso in cui butta male mi rivesto così e la riscatto Anche se mi piacevano di più i ciuffi come erano lì, che come sono qua Che adesso sembrano un po' tendina, lì erano un po' più sipario Alla fine ho scelto questa Vediamo di farla funzionare Sono le 12 Ho finito il lavoro della mattina, tutto quello che dovevo fare Il video che dovevo girare oggi l'ho posticipato domani Così oggi pomeriggio dipingo con il colore di ieri Cerco di finirlo entro stasera Così domani non ho altro colore che rischia di asciugarsi Ma posso dedicarmi a qualcosa di completamente diverso Prima della pausa pranzo però vado a fare un giretto in giro Per sbianchirmi un po' anche per vedere un po' l'aria aperta Visto che se continuo a stare in casa tutti i giorni così Inizia a crescermi addosso la muffa Comunque sia fuori piove per evitare Di bagnarmi Già cavento tattica A dopo Bene eccomi ritornata in studio È un po' buio perché oggi è una giornata super ruggiosa Ma adesso prima di dipingere devo fare un'ultima cosa a computer Ovvero mandare una fattura a un cliente Quindi entro nel mio cloud Partitaiva24 Inizio a compilare la fattura che è veramente semplicissimo Qui metto il numero della fattura Qui abbiamo la data Qui ad esempio metto il servizio Qui chiaramente l'importo E poi puoi inserire altre informazioni come il bollo virtuale, la causale, quando e dove ricevere il pagamento Insomma tantissime funzionalità super comode Quello che adoro del servizio Partitaiva24 È che all'interno del cloud è compreso un servizio di fatturazione elettronica Insieme a tantissime altre funzionalità Come gestione degli F24 Dei corrispettivi Delle fatture acquisto se siete in regime ordinario Ma anche un calendario con tutte le scadenze E un tool per creare un prospetto delle tasse da pagare l'anno dopo Così che saprete già quanti soldi dovrete tenere da parte per poi pagare le tasse E adesso finisco di compilare la mia fattura Perché è storto? Sempre è stato storto Valeria Bene, ho finito Posso finalmente rimettere un po' di musica E ritornare a dipingere Se nel lavoro a computer sono così organizzata e metodica Quando si tratta di pittura abbandono tutte le regole Quindi mi metto a dipingere quando ho tempo Per tutte le ore che voglio E mi lascio veramente guidare dal flusso creativo A volte dipingo la sera Cerco di non farlo perché poi sogno la pittura tutta la notte Non so se capita anche a voi nel caso Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Ma in questo caso avevo già fatto tante altre cose durante il giorno E mi era rimasta soltanto la sera per lavorare al dipinto Sono ormai le nove e mezza Direi che per oggi posso fermarmi qui Anche oggi il processo è andato un po' a rilento Forse perché sto andando molto prudente con questo dipinto a cui tengo molto Non so se domani riuscirò a dipingere molto Ma sicuramente adesso non ho voglia di andare a sistemare la tavolozza e i pennelli Quindi provvederò con una soluzione provvisoria Andando quindi a coprire la tavolozza e a pulire i pennelli in modo piuttosto grossolano Così che poi domani magari dipingo ancora un po' e poi sistemo tutto Cerco di rimuovere un po' di colore con il solvente Usando un trucchettino che vi ho già spiegato nel video che vi lascio allincato qui in alto a destra Come sempre quando devo finire mi viene da fare un ultimo ritocco Poi per non far asciugare il dipinto ci metto il camice sopra Cercando di non farlo appiccicare insomma no? Così anche il dipinto rimane fresco nel caso che domani voglio andare un po' avanti Adesso vado a lavarmi le mani e mi godo la mia serata Noi ci vediamo domani Venerdì! It's Friday, Friday, gotta get down on Friday Questa la capiscono solo i millennial Questa settimana non me la sento di dire finalmente venerdì Perché comunque è stata una settimana abbastanza tranquilla Finalmente ha smesso di piovere Quindi posso tornare a verniciare gli ultimi dipinti che non sono riuscite a verniciare questa settimana E che sono qui da un po' di giorni ad aspettare il loro turno per essere verniciati Tra cui questo che dovrà partecipare a una mostra quindi è importante che comunque abbia uno strato Se non di vernice finale almeno di vernice protettiva per renderlo uniforme anche per proteggerlo dallo sporco E poi anche questo dipinto qui Quindi vernizia la mano e andiamo a verniciare Per prima cosa bisogna capire da che lato passa il vento Ok adesso li lascio asciugare un pochino e poi tra 5 minuti li riporto dentro E ora li lascio riposare qui un paio d'ore prima di imballarli nella carta protettiva per metterli via Prima di iniziare a dipingere questa mattina devo filmare un piccolo reel perché è un po' che non pubblico su Instagram E in questo caso voglio fare un confronto tra la sottopittura ad acrilico e lo strato superiore a olio Quando sono soddisfatta con le clip che ho girato devo montarle E poi devo pubblicare il reel Colgo l'occasione per chiederti Mi segui già su Instagram? Se non lo fai ancora mi trovi come Vale su tela Ovviamente Ok è l'una direi che con questo dipinto per questa settimana mi fermo qui perché pomeriggio devo fare altro Ora metto via tutto e poi vado in pausa pranzo Bene eccomi tornata dalla pausa pranzo Adesso oggi pomeriggio devo montare un video per il canale YouTube e devo anche registrare il voiceover Prima però controllo i commenti e le richieste d'assistenza della Vale su tela Academy Per chi non lo sapesse la Vale su tela Academy è la mia scuola online di disegno e pittura Dove carico tutti i miei corsi di disegno e pittura a cui puoi trovare il link qui sotto nella descrizione del video E dove i miei studenti possono anche chatare tra di loro Farmi delle domande a cui io rispondo quotidianamente Pubblicare i loro disegni o esercizi sul forum e partecipare alle sfide mensili Ci sono anche tanti altri bonus per chi si iscrive ai miei corsi Come dirette registrate oppure articoli di storia dell'arte o su libri artistici Ma puoi trovare più informazioni sempre ai link che trovi qui sotto Una volta finito registro un voiceover per un video YouTube Lo so, gesticolo un sacco anche se non ho davanti nessuno ma siamo italiani no? Bene, questo video finisce qui Spero di avervi dato tanti spunti utili E vi ricordo che cliccando sul primo link qui sotto alla descrizione del video Potrete prenotare una consulenza gratuita con i consulenti commercialisti di Partiteiva24 Che sapranno aiutarvi al meglio a gestire la vostra attività in proprio Inoltre, se sceglierei di affidarti al loro ottimo servizio di commercialisti Utilizza il codice sconto che ti lascio qui sotto nella descrizione del video Per avere uno sconto sul tuo primo anno di abbonamento Se questo video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciarmi un bel like E di iscriverti al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto al video Per non perdere ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura Alla fine di questo video troverei altri due miei video che possono essere interessanti per te Altrimenti ci vediamo settimana prossima in un nuovo video Ciao!